Stamattina è arrivata la notizia che la Whirlpool non interromperà domani la produzione allo stabilimento di Via Argine, che cosa fare però adesso per evitare che questo accada tra un po'? Innanzitutto è un grande risultato il cui merito è soprattutto delle lavoratrici e dei lavoratori della Whirlpool, che devo dire con dignità, umanità, coraggio, sacrificio, senza mai mollare, hanno lottato. Un grande merito della città di Napoli, che si è schierata compatta in tutte le sue articolazioni, l'amministrazione comunale, il sindaco di Napoli, il consiglio comunale intero, senza distinzioni. Io credo che la forza di Napoli sia avvertita, il messaggio forte che abbiamo mandato l'altro giorno insieme, amministrazione, città, categorie intellettuali, professori, associazioni, lavoratrici e lavoratori a Castel dell'Ovo, cioè di essere pronti comunque a lottare fino alla fine, sia servito sia nei confronti del governo che nei confronti della Whirlpool. Del resto ieri avevo avuto l'interlocuzione con gli uffici di Palazzo Chigi che mi avevano appunto convocato per il 7 novembre mattina per discutere in particolare di Whirlpool, quindi si sta muovendo qualcosa di importante e quindi adesso tutti concentrati per raggiungere l'obiettivo domani, lo sciopero generale, quindi dobbiamo tenere alta l'attenzione, non si è vinto ancora nulla, però si è evitata una morte annunciata. Io sono convinto che se non ci fosse stata la mobilitazione nella città questa partita era già chiusa.